Cosa è quella? Ampere. Ampere quella? Tensione. Quanto butta fuori? Eh fai 2,77 x 4,60. Un chilo. Un chilo. Un chilo. E quanto ce n'è l'ingresso? Tagna? Ma non si vede. Deve. Quanto è l'ingresso? Dieci. Dieci cosa? Dieci ampere. Dieci ampere a quanti volt? Due venti. Quindi sono due kilowatt in ingresso. Guarda di Cristo va. Quello è uscita. No, l'ingresso non è così. E' un valore efficace. Devi fare il corrente alternata. Anche 10 minuti. Anche 10 minuti. Anche 10 minuti. Si. 4,5 milisecondi 7,1 milisecondi 我是想想7 milisecondi 2,8 milisecondi 8 milisecondi 7 milice 4 milisecondi E' un par 2, che valore efficace alla tensione e 69V, non 220V, 2V, 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 . 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 25 Hz 25 Hz 25 Hz 25 Hz Dice che la frequenza è più efficiente E come lo vede la 25 Hz? Da... Questa è una scala di tempo Per cui se tu guardi quanto questo La metà quindi 25 è così? No Se la scala è 50 4,5 millesecondi Per cui la somma ti da un tempo totale Tu prendi quanto è largo il picco e sai... Gli Hz? No, gli Hz in realtà sono quanti picchi ci sono nella scala Poi è un... Più o meno 25 Sì, fino a... La... La vestita è... Ma... Guarda Guarda La buttata Guarda 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 Grazie a tutti.